Allora, live in live blogging perché la blu da Firenze, Andrea Gori, siamo con Renato Romanelli che ci aggiorna su quello che è successo nei primi due giorni. Due food show con due protagonisti della cucina, quindi abbiamo Filippo Lamantia, prima serata, veramente affascinante, il siciliano dalle mani d'oro, ma soprattutto grande successo con tutto il pubblico, con una cucina semplicissima. Ieri sera Alessandro Borghese, il vero chef televisivo, possiamo dirlo, piatto incredibile, palla di pelle di pollo, però devo dire tutte le donne erano affascinate. Se era buono, chiedetelo a loro. No, aspetta, hai detto palle di pelle di pollo, quelle di a pelle? Ebbene sì, nel senso era stato un piatto pazzesco, ci ha messo di tutto, papaya, cipolla, pomodoro, questa palla di pelle e poi ha detto cosa gli piace come piatto, gli spaghetti al pomodoro. Valle a capire questi chef. A presto.